eccoci qui un nuovo video oggi è arrivata l'ufficialità che Gallerisi non sarà più l'allenatore del gubbio ma era nell'aria diciamo diciamo che me l'aspettavo faccio un in bocca al lupo a lui per la prossima carriera insomma che avrà sicuramente sicuramente andrà a padova da come ho letto da come ho letto insomma quindi buona fortuna grazie per aver fatto aver portato il gubbio alla salvezza e adesso bisognerà trovare altri candidati che già ho letto tre quattro nome tra cui anche il ritorno dei magi sarebbe male anche se ha fatto bene solo a gubbio negli ultimi anni un po di fiaschi in qua e là ma per me non sarebbe per niente male onestamente può essere parlato anche dei albini e pare che dell'albino la f di tanti candidati ma ancora dei nomi proprio ufficiali non ci sono quindi aspettiamo la società cosa la scelta che farà per me chiunque venne a gubbio è sempre benvenuto l'importante che faccia bene e che si impegni per il gubbio faccia il più possibile per il gubbio e niente bocca al lupo a Gallerisi che sicuramente andrà a padova anche tra l'altro è stata una bandiera della squadra insomma lì del padova una squadra ai tempi molto forte ha fatto anche la serie a e niente bocca al lupo a lui questa è la notizia di oggi una veloce notizia purtroppo non è più diciamo che era nell'aria come dicevo prima me l'immaginavo quindi non sarà più l'allenatore del gubbio un bocca al lupo per il futuro e vediamo adesso chi sarà il prossimo allenatore del gubbio appuntamento al prossimo video sempre 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 forza gubbio